Ecco qui, oggi pomeriggio, uno spettacolo, l'ingrediente principale è il ghiaccio. Esatto, abbiamo lasciato il fuoco pochi giorni fa oggi per lanciarci sul ghiaccio. Due fantastici artisti scultori realizzeranno due opere d'arte attraverso la manipolazione del ghiaccio. Poi ci sono altri ingredienti che rendono ancora più spettacolare questa occasione. Abbiamo musica dal vivo, non so se sentite, c'è il DJ in sottofondo. Poi all'interno del nostro borgo medievale abbiamo l'apertura della Torre Civica con la sua risalita, che suggerisco sempre a tutte le persone che vengono a visitare l'overe perché merita davvero tanto. L'apertura della nostra basilica, quindi Santa Maria. Poi abbiamo dei fantastici presepi ben nove nei vari fondaci e nelle vecchie vetrine del centro storico. Quindi c'è anche questa bellissima suggestione del presepe di Natale. Tutti gli eventi che abbiamo pensato, ideato e realizzato in ogni weekend di dicembre sono stati possibili grazie all'Unione, la sinergia di Proloco, Amministrazione e Associazione Commercianti Asarco. E i prossimi eventi? Allora ricordiamo il prossimo weekend avremo il 29, Parola Bianca, delle fantastiche trampoliere che balleranno e danzeranno per noi, vestite di bianco luminosissime all'interno del borgo e in piazza 13 martiri. Mentre domenica 30 gli attori del Silence Teatro, come Angeli, ci accompagneranno a visitare l'overe e il lungo lago. Ecco, i presepi restano aperti per diversi giorni. Sì, fino al 15 gennaio. Ecco, tra i tanti oggi siamo entrati qui dove un tempo c'era un bar e qui c'è un presepi molto particolare. Come è stato realizzato? In paillettes e spilli, una durata di 10 anni, è stato fatto in 10 anni. In paillettes e spilli, su una base di? Polistirolo. Quindi lei realizza una base di polistirolo e poi pian pianino inizia a decorarli. Sì, tutto è realizzato in polistirolo e piano piano vengono rivestiti con spilli e paillettes. E i soggetti? I soggetti li faccio io, tutto io, tutto in polistirolo anche quello. Come ad esempio viene ispirato? Fantasia, la mia fantasia. Comunque è un lavoro molto preciso, molto attento. Pazienza, soprattutto tanta pazienza. Quello sì, soprattutto quella. Sì, io mi chiamo Cristian Gregori e ho fatto questo presepi all'overe con mio padre che mi ha aiutato a realizzare l'impianto elettrico. È stato costruito tutto artigianalmente con parte di polistirolo, altre parti in legno ed è stato poi meccanizzato attraverso degli impianti elettrici che abbiamo costruito noi fondamentalmente. I luveresi sono molto affezionati a questo santuario. Sì, questo è uno dei luoghi diciamo che vengono visitati maggiormente dagli luveresi e non solo ed è un posto veramente bello dal quale si gode una vista bellissima, si vede tutto il lago di Iseo e merita di essere visitato durante tutto l'anno. Questo è stato un lavoro molto importante. Quanto tempo è stato necessario? Dunque, la parte di San Giovanni è stata realizzata quest'anno, la montagna che era la parte mancante e quindi il lavoro è stato fatto in circa tre mesi. La restante parte del presepio è il frutto di due anni di lavoro serale, qualche ora serale, dedicato al presepio. E il prossimo anno cosa si aggiungerà? Ma il prossimo anno ho qualche progetto che non so ancora se realizzerò, nel senso che mi richiederà un po' di tempo perché vorrei meccanizzare un po' di più il presepio. Speriamo di riuscire e quindi di fare una parte nuova sempre legata al paese e di renderlo un po' più meccanizzato. Ecco che è la parte che un po' manca del presepio perché richiede diverso tempo di lavoro.